Allora, in questi giorni ci stanno facendo diventare familiare lo spread. Ci stanno facendo diventare familiare lo spread dopo che l'avevano fatto nel 2011, perché nel 2011 il signor spread era costantemente il protagonista dei titoli di giornale, dei nostri telegiornali e così via. Che cosa significa innanzitutto spread? Che cos'è lo spread? Lo spread, parola naturalmente inglese e come sappiamo tutti quando c'è di mezzo l'inglese bisogna essere cauti, significa semplicemente differenziali. Allora impariamo la differenza, lo scarto, l'ampiezza della distanza fra due riferimenti. Qual è il riferimento fisso, prevalente? Nell'ambito dei titoli di Stato, in particolar modo dei titoli di Stato a durata decennale, sui mercati finanziari europei, lo spread viene calcolato fra il titolo di Stato tedesco, detto dagli operatori Bund, sempre decennale, e i titoli di Stato degli altri paesi, per cui attualmente ci interessa quello italiano, perché sono le fibrillazioni che i mercati finanziari operano sulle quotazioni dei nostri titoli decennali che vanno valutate. Ora vi faccio vedere, questo è il sole 24 ore, non so se si può apprezzare, ve lo avvicino, questo è l'andamento dello spread nella giornata odierna, perché come è ovvio anche all'interno della stessa giornata di mercato le escursioni di prezzo possono essere così ampie da consentire agli operatori di far tanti tanti soldi, perché basta che per esempio vi sia una variazione all'interno della giornata di 6-7 punti percentuali ed è con là che tu investendo 100 guadagni 6-7, può anche essere vero il contrario perché si può perdere, queste sono manovre come voi capite speculative, per questo bisogna essere informati ed è questo uno dei motivi per cui ci attaccano insistentemente su questi versanti perché essendo noi italiani dal punto di vista economico e finanziario ben poco informati, ben poco padroni dei fondamentali di queste discipline noi spessissimo veniamo frodati. Ora lo spread è un differenziale, dicevo questa mattina lo spread, cioè la differenza di valore fra il Bund tedesco e il titolo di Stato decennale italiano, il BTP a 10 anni italiano, questa mattina è stato anche di 145, attualmente mi pare che sia di 158,90 con una escursione che secondo il sole 24 ore è stata pari nella stessa giornata al 6,64%, come voi capite si tratta di un'escursione molto importante all'interno della stessa giornata. Però vi dicevo che è una misura differenziale, che lo spread registra la differenza di rendimento offerta da un titolo di Stato, quello tedesco in Europa e quell'altro per esempio quello italiano. Perché è importante calcolare questa misura? Perché la differenza di rendimento per chi come uno Stato è costretto ad emettere titoli di Stato per, indebitandosi come ovvio, per finanziarsi sui mercati perché noi non possiamo più emettere moneta, ma questo è un altro discorso, non possiamo più coniare moneta e questo è un discorso ed è anche un problema. La differenza fra i rendimenti ci fa capire quale sia lo Stato ritenuto dagli investitori più credibile, più capace di restituire nel tempo il finanziamento ottenuto e per cui si garantisce un prestito ad un tasso più basso. Allora cerco un pochino di scrivere. Attualmente lo spread abbiamo detto è un pochino sceso adesso è a 156,10. Sono centesimi di punto percentuale, questo alle 12.30 è lo spread sui mercati secondari europei e lo spread fra il Bund tedesco e il BTP a 10 anni italiano. Però per caso noi paghiamo 1,56% di interesse sul titolo di Stato che appunto è in oggetto? No. Noi paghiamo circa attualmente il 2,15, il 2,16. Che cosa significa? Che il Bund tedesco attualmente viene scambiato a 0,59. Per cui un Bund tedesco rende 0,59 all'investitore? L'equivalente titolo di Stato italiano per la stessa durata rende il 2,15 circa e di conseguenza la differenza fra 2,15 e 0,59 è appunto 1,56% siccome si calcola in centesimi sono 156 centesimi circa. E allora, amici, potrà anche aumentare la differenza? Certamente questo è un problema. Potrà diminuire la differenza? Certamente questo dovrebbe essere un vantaggio. però adesso vi domando se il titolo tedesco fosse quotato a 4 e il titolo italiano fosse quotato a 5 lo spread sarebbe inferiore, la differenza sarebbe semplicemente di 100 e noi potremmo magari rallegrarcene, ma in realtà noi pagheremmo molto più tassi di interesse, molto più interesse sul debito, sul capitale che abbiamo appunto accettato in prestito. Per cui cerchiamo di comprendere che lo spread è una misura relativa. Ciò che effettivamente conta è ciò che effettivamente spendiamo per finanziare il debito e il debito pubblico italiano attualmente, scusate ma io voglio scrivere, ha di poco superato i 2302 miliardi di euro. Il tasso medio, perché per ogni emissione di titoli di Stato c'è un'asta e di conseguenza ci sono tassi differenti, il tasso medio è di poco superiore al 4%. Per cui, come voi capite, se su 2300 miliardi di euro noi paghiamo mediamente il 4% anno di interessi sull'intero stock del debito, questo significa che noi paghiamo circa 92, 93, 94 miliardi di euro di interesse. Una cifra enorme, folle, che noi possiamo e dobbiamo abbattere naturalmente con intelligenza e con prudenza. Per cui, non fatevi ingannare dalle sirene, lo spread è aumentato, lo spread è diminuito. Per tutto il 2017, lo spread è stato superiore a 160, addirittura è arrivato anche a 200. Per cui, essendo attualmente in tempo reale, qui sul sito del Sole 24 ore, dato a 156,10, dobbiamo dire la verità, si tratta di una differenza, sì importante, ma inferiore a quella che si è avuta per l'intero 2017. Dunque, dobbiamo concludere che non c'è assolutamente da temere cataclismi, terremoti, ma che c'è soltanto da operare con attenzione, vigilando. Dobbiamo certamente evitare che gli operatori che sui mercati secondari, magari concertando fra di loro, gli operatori possono influenzare lo spread con attacchi speculativi. Qualcuno ricorderà il nome di un grande operatore dei mercati, un grande finanziere, poi qualcuno ne ha un giudizio pessimo. Io sono fra questi. Gheorghi Soros, un grande, diciamo così, manovratore, all'inizio degli anni 90 attaccò la lira, potendo gestire migliaia e migliaia di milioni di dollari, miliardi di dollari, e portò ad una crisi valutaria per la nostra moneta che ci costò, allora era governatore della Banca d'Italia, Carlo Azzeglio Ciampi, se non ricordo male, ci costò circa 50 mila miliardi di lire. Siamo nel 93, se non ricordo male. Ora, che si capisca, noi dobbiamo sapere, perché se non sappiamo, quelli fanno bau bau e noi ci impauriamo. Noi dobbiamo essere consapevoli, per cui per combattere la paura, lo strumento, il rimedio più efficace è la conoscenza. Studiamo tutti. Lo spread non è una brutta bestia e soprattutto in questi giorni non sta inviando segnali preoccupanti. Per dire, c'è stato un aggiornamento, attualmente lo spread è a 157, quindi la variazione giornaliera è del 5,37%, è inferiore ai massimi odierni. Speriamo, come ovvio, che scenda, ma non facciamoci impaurire dallo spread. Scusate, ma mi sentivo in dovere di far girare queste informazioni perché altrimenti ci massacran sempre, causa la nostra ignoranza. Studiamo e li sapremo bloccare ab origine.